Sara! Sara! Chi? Sara! Ah! Ci deve essere stato un piccolo equivoco perché ero passato a portarti un pensierino ma c'è un'altra Sara Berruti qua perché mi ha aperto una vecchia Guardi, oggi non è giornata che vuole da me? No, ma niente avevo portato un regalino così per conoscerci Che regalino? Sì, mo se l'ha preso la vecchia, un pesciolino rosso. Ah no, a me gli animali in gabbia mi hanno sempre fatto orrore. Anzi, adesso vado, arrivederci. Guardi, io già gliel'ho detto un'altra volta, niente regali, eh? Arrivederci. Salve, salve. Oddio, no, ancora lei? No, questa cosa ha un gusto un po' orrituto. Ma io già gliel'ho detto, non me li deve fare i regali. Ma no, ma così... Poi color salmone, su. Sorpresa! Ma mi ha fatto prendere un colpo. Ma è pazzo! Una pianta grassa. Ma basta! Ma io l'ho già detto mille volte. Basta! E ancora con questi regali, ancora! Ma la pianta... Basta, ho detto basta, basta, no? Pianta grassa. Basta! Grazie. Contento? Prego. Arrivederci. Il regalo sta dentro.